ahahahahah vai dai 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 serve un tavolino da salotto di quelli bassi ma senti più salotti di questo tavolino a b partire non sto registrando è così solo per sport più si diverte a tenere il telefonico esatto è così si sta anche comodo tavolino piccolo da salotto mi perdoni signora non riuscivo più a guardarla però mi dicono che la donna dovrebbe andare sotto sotto il tavolino rannicchiata così poggiando gomiti e ginocchia terra? no su dei piatti su qualcosa che mi possa scivolare poi mi finisco quindi tavolino la donna sotto così sui piano l'uomo va dietro e se non fa quel momento è fatto così e la donna esce le la chiesa questa è la posizione che mi dico allora questa è la nostra ruca è la nostra ruca è una ruca